ben ritrovato su un nuovo contenuto di music business italia oggi ti parlo del problema numero uno di chi vuole fare musica di mestiere di chi fa musica di mestiere questa è davvero una problematica che avete tutti voi quindi mi auguro che con questa lezione che sarà una lezione di marketing ok che voglio donarvi ok possiate fare dei ragionamenti ok per quale motivo perché abbiamo notato in tutti questi mesi di consulenze su vari progetti ok di affiancamenti su vari progetti uno degli ultimi luca ok che è una persona che ha una progettualità veramente spinta su vari fronti e che mi ha dato là per questo video che io ringrazio è l'ennesima persona che ci ha fatto capire che tutti voi avete un unico grande gravissimo problema e oggi vedremo le implicazioni ma anche le soluzioni cioè saper fare lead generation e capire che cosa significa creare indipendenza vera indipendenza attraverso la lead generation ok se non ci conosci sei su music business italia su questo canale puoi trovare più di 500 video dedicati al mercato della musica ok a strategie news a tutto quello che riguarda il mondo del lavoro musicale quindi se non ci conosci rimani con noi fino alla fine per poterci dire se secondo te siamo dei creatini o se invece abbiamo qualcosa di utile da dirti ok allora partiamo quindi subito io mi son fatto qui degli appunti allora il discorso che io faccio è legato al tema dell'indipendenza ok perché perché quando parliamo di lavorare all'interno di un settore ma questo vale per qualsiasi settore ora vi faccio degli esempi chi può considerarsi veramente indipendente non indipendente su queste parole del cazzo che vengono usate dagli aggregatori dalla discografia dagli artisti indipendenti che poi sono dipendenti da tutta una serie di modelli colui o colei che è considerabile lavorativamente parlando indipendente è colui o colei che ha il contatto diretto con l'utente finale facciamo degli esempi macro pensate a apple ok questo ripeto è marketing apple ha il contatto diretto con gli utenti finali assolutamente sì al netto della sua struttura e della sua complessità pensiamo allo streaming pensiamo a spotify spotify ha il contatto diretto con gli utenti finali assolutamente sì che siano ascoltatori che pagano un abbonamento una fee o che siano magari artisti musicisti produttori che caricano attraverso servizi quindi non essendo indipendenti dei servizi ok che gli consentono di caricare per esempio musica su determinate piattaforme spotify ha il contatto il controllo diretto sull'utenza finale come direbbero in inglese control on the end user ok con un sentite che inglese pazzesco quindi che cosa succede che nel momento in cui non si è in grado di costruire un sistema per attrarre e recuperare il contatto diretto con un target una persona potenzialmente interessata a ciò che tu fai e non sei in grado di farlo in modo misurabile tu non hai indipendenza tu sei totalmente in una condizione fuori controllo prendo l'esempio di luca ok questa persona ripeto non entrerò nei dettagli però lui ha un'attività anche discretamente grande importante ok nel mondo della musica e lui a un certo punto mi ha detto no beh perché il mio sistema di acquisizione ok di nuove persone che entrano all'interno del mio circuito stiamo parlando di una persona ripeto che tra l'altro io gli farei un applauso fa anche 300 euro al mese con spotify questo ok fa molto piacere perché voi non sapete ma noi non siamo contro determinati modelli siamo contro l'utilizzo inconsapevole di determinati strumenti ok quindi che cosa mi ha detto all'interno della mia attività io ho questi canali da cui attraggo ok o da cui pesco persone potenzialmente interessate al ai suoi servizi e allora il tema è stato tu non hai controllo sull'utenza finale cioè cosa vuol dire che se questa attività un domani ti dice ciao ciula arrivederci tu rimani lì come un pollo facciamo un esempio più concreto magari anche su di noi mettiamo il caso domani esplode youtube ok quindi tu hai magari un tuo canale instagram youtube social ok un canale stai utilizzando lo strumento e su quello strumento hai tutta una serie di persone che ti seguono tu follow ok ti seguono tu lead è sarebbe un'altra un'altra cosa è guidare tu lead lead generation guidare l'utenza ok come fai avere hai il contatto diretto con l'utenza finale perché avere un numerino su youtube o avere un numerino su instagram avere un numerino su qualsiasi altra piattaforma non ti dà la l'indipendenza perché perché quell'indipendenza è data da che cosa dal fatto che ad esempio se in mb esplode youtube e da domani non esiste più io e abbiamo un database profilato con tutti i nomi cognomi gli indirizzi di tutti i nostri contatti dai contatti che sono acquirenti ai clienti quindi si potrebbe parlare di segmentazione delle liste non entro in una complessità più elevata a i lead divisi anche per categorie quindi chi è artista chi è musicista chi è produttore chi è interessato chi ha aziende eccetera perché perché in questo modo io ho costruito un sistema di contatto diretto di reale indipendenza per cui qualsiasi cosa succede io comunque so di avere il controllo della situazione non sono dipendente da oggi parlare di indipendenza ad esempio per un artista emergente perché è ridicolo perché se non c'è un sistema di lead generation tu non sei indipendente tu sei dipendente da qualsiasi dipendente da un'etichetta dipendente da un distributore dipendente da un servizio di magari licenza sei dipendente da qualsiasi cosa quindi la lead generation è ciò che può ok io metto lg che non è la marca del condizionatore che ha deciso di scoppiare è la via verso l'indipendenza l'indipendenza è data dal contatto diretto con l'utente 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 ora permettetemi di cancellare che difficoltà ragazzi ci siete fino a qua se voi non avete un sistema di controllo sull'utente finale non avete il suo contatto non lo potete chiamare per nome non avete non l'avete profilato e tutta una serie di cose voi non sarete mai indipendenti qualsiasi sia la vostra figura qualsiasi sia il vostro ruolo che voi abbiate un progetto artistico o che abbiate un servizio uno studio siete produttori non mi interessa ok quindi il discorso qual è vi faccio l'esempio opposto ci siete voi questo è come si muove l'83 per cento del mercato ci sono aziende queste aziende hanno ovviamente dei servizi che sono rivolti a voi e queste aziende si rivolgono appunto all'utenza finale io prima vi ho fatto l'esempio di spotify perché perché è un esempio lampante io ho della musica avete dei brani cosa fate per metterli a disposizione di un pubblico che poi non profilate non sapete chi è che vi ascolta eccetera eccetera vi appoggiate delle aziende che attraverso dei servizi quindi attraverso un pagamento vi consentono ok potenzialmente di raggiungere un'utenza finale quell'utenza finale è sempre sotto il controllo dell'azienda sempre quindi cosa vuol dire che domani esplode spotify spotify avrà un database infinito di tutti i suoi utenti finali da i gli ascoltatori quindi chi i clienti che pagano una sottoscrizione a per esempio tu che utilizzi un'azienda intermedia quindi qua potrebbero essere azienda 1 qua ci potrebbe essere azienda 2 ok qua ci potrebbe essere azienda 3 che ti porta ok all'interno di quella piattaforma o di quella realtà per raggiungere l'utenza finale tu sei sempre fottuto perché sei fuori da questo circuito tu stai pagando ma non hai un contratto diretto con l'utenza finale quindi io questo ve lo voglio dire per quale ragione perché fino a che voi tutti non vi mettete e questo io lo dico sulla base lo diciamo sulla base di centinaia di persone che sentiamo affianchiamo ok in tutti questi periodi finché voi non capite di avere un problema di marketing voi non riuscirete mai ad essere indipendenti quindi il vostro problema non è la produzione non è il come registro la mia musica non è quanto è qualitativo il mio studio di registrazione non è quanto ho studiato quell'argomento e quanto ne so di quell'argomento il vostro problema è la commercializzazione e la capacità di raccogliere il contatto con un'utenza finale senza intermediari ok e allora qui una persona mi dice tutto bello quello che mi stai dicendo ma come si fa e mo vi dico pure come si fa preferite che faccio così tutte mosse di posizionamento sono anche scalzo perché a casa mia posso fare quello che voglio allora signori innanzitutto capiamo che cosa significa la parola lead perché mi sembra logico purtroppo si usano tutti questi inglesismi che ubriacano le persone ok e magari molti di voi non riescono subito a capire qual è il significato di quella parola non capendo il significato fate fatica a generare ok tutta una serie di output quindi un follower segue e quindi la domanda sarebbe che cosa segue un artista musicista eccetera ma perché lo segue dove lo segue come lo segue su quali canali lo segue online offline e a un certo punto si arriva alla parola lead che la parola lead significa guida infatti non vuol dire un cazzo come marketing non significa non è traducibile in italiano perché sarebbe fare mercato lead significa guida quindi uno dovrebbe dire tu lead quindi guidare voi dovete guidare un pubblico guidarlo verso che cosa verso un maledetto magnete lo volete che ve lo dico in gergo lead magnet cioè cosa vuol dire che io attraverso una strategia organizzata di costruzione dei contenuti di fase educativa di analisi di determinate problematiche di i bisogni che il mio target ha e questo vale per artisti io lo ripeto vale per tutti perché gli artisti dicono no vabbè ma questo a me non mi interessa oppure il produttore dice no vabbè ma questo a me non mi interessa vale per tutti voi dovete costruire questo processo questo percorso quindi tu lead che guida guida il target lo piglia per mano e gli dice tu devi fare a b c d e io in cambio del tuo contatto diretto ok sono disposto a darti questo che cos'è il lead magnet è un magnete cioè è qualcosa che dica guarda facciamo facciamo un esempio su mb ok mesi fa abbiamo fatto il seminario abbiamo tenuto il seminario mb money che è stato un grandissimo successo dal punto di vista delle presenze dal punto di vista ok c'è erano insomma fate voi il conto erano 43 persone che pagavano un biglietto di 435 euro questo io lo voglio dire non per fare il fenomeno per farvi capire anche che non vi servono grandi numeri per ottenere grandi risultati ma questo anche qua è un'altra cosa che è molto difficile far passare ma noi per esempio ho finito l'evento avendolo registrato interamente che cosa abbiamo detto qual è stato il magnete di quella strategia è stato dire beh guarda attraverso tutta una serie di tematiche su cui io ti educo online e offline io ti do la possibilità di guardarti i primi 45 minuti di quell'evento gratuito voi non avete un cazzo di magnete che siate artisti che siate produttori che siate musicisti non avete un magnete non avendo un magnete una persona facciamo io stamattina prendevo prendo ad esempio luca ma luca non è non ce l'ho con te però dire io anche se volessi darvi il mio contatto diretto in questo momento avrei la possibilità di farlo facilmente se sì voi che cosa mi date in cambio come mi fate arrivare lì sopra e quindi qua si entra in quella che possiamo dire la complessità del marketing perché dino ok da dove arriva questo utente che tipo di piattaforma utilizza questo utente che cosa abituato ok o che tipo di problematiche cerca questo utente una volta che mi scopre quali sono quei passaggi che gli poche possono generare fiducia o come posso trasmettere a questa persona autorità e facendogli capire che di queste tematiche io ne so che lo posso aiutare nel fare a b c d e facciamo l'esempio di un artista perché so che l'artista magari mi sta guardando sgranato facciamo un esempio di perché io dovrei venire al tuo concerto perché dovrei mai darti il contatto diretto perché tu fai della musica molto bella interessante a questo purtroppo all'utenza non gliene frega un tubo dovete dargli una ragione parola chiave ragione di lasciarvi un proprio contatto diretto e su questo si basa il valore ragazzi delle aziende un'azienda un'attività una libera professione si basa sulla quantità di contatti diretti e quindi di clienti o di potenziali clienti perché un lead non è necessariamente un cliente noi nelle nostre liste abbiamo 1143 persone profilate ma non è che tutte queste 1143 persone sono i nostri clienti ma sono persone che ci seguono che ci studiano che in questo momento non sono disposti a fare determinate azioni ma noi attraverso un sistema organizzato le attraiamo a noi prendiamo i loro contatti diretti e gli proponiamo ok soluzioni gli proponiamo alternative gli proponiamo contenuti di valore non necessariamente a pagamento anche gratuiti ok come per esempio questi contenuti su questo canale quindi li nutriamo quello che Antonio chiama lead nurturing ok non lo so pronunciare qual è il vostro ma io ritorno vi rifaccio la domanda qual è il vostro ma niente qual è il percorso che una persona fa con voi perché voi avete delle situazioni dal punto di vista online dal punto di vista offline ragazzi incasinatissime per non parlare poi di come si arriva qui perché qua che cosa dovete fare quella su cui noi rompiamo tantissimo i coglioni che è la fase educativa prendiamo un esempio che può essere un esempio lampante ok avete visto o magari no all'intervista willy peyote l'intervista willy peyote analizzata già ad antonio ha tutta una serie di punti che fanno vedere la capacità e l'indipendenza nel dover costruire ok una una situazione dove si ha il controllo ok ma se voi guardate ad esempio i numeri di willy peyote dal punto di vista online sono numeri possiamo dire bassi perché perché su sistema di fidelizzazione di educazione ok e tutto quello che è la procedura che lui ha costruito i magneti le i prodotti a supporto che lui ha costruito nel tempo la sua musica possiamo metterci in mezzo tantissimo che non è solo creativo ma è anche sicuramente progettuale ha poi però la capacità di fare concerti dove al suo concerto poggiano il culo migliaia di persone eppure però online non ha numeri fantasmagorici ok quindi è riuscito a costruire la sua indipendenza perché ciò che fa interessa direttamente e non indirettamente un pubblico fase educativa contenuti come crea i contenuti noi il percorso content creator che io qua sto per chiudere questo video a meno che non abbia ok no vi lascio poi dei compitini da fare ok però il percorso content creator no perché è stato costruito è stato costruito per dire sapete come arrivare a fare fase educativa ad un determinato target e far sì che quella persona scelga voi anziché qualcun altro e qui le persone mi dicono no però io online non mi interessa non me ne frega un cazzo allora faccio sempre questo esempio che è un esempio concreto un esempio che vediamo succedere costantemente persona quindi uno tu sei un artista tu sei un musicista tu sei un produttore eccetera parla con il target quindi parla con il contatto diretto offline quindi nella vita vera nella vita reale e gli dice guarda con me puoi produrre guarda come guarda il mio studio viene a vederlo guarda possiamo organizzare questo allora se c'è il concerto guarda ti faccio vedere qual è il palco ti faccio vedere che cosa puoi utilizzare eccetera quindi c'è un contatto diretto con l'utenza finale ok quindi facciamo l'esempio una persona arriva in uno studio e dice ah ok queste sono le sale di ripresa possiamo fare una presa diretta bla 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 questo visto succedere tantissimo nel mondo della produzione a un certo punto quel cliente quel potenziale cliente scusate dice ok guarda ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato esce dalla porta già qua esce dalla porta e sparisce cioè non entra in un sistema di marketing non entra in un sistema di newsletter vabbè questo lasciamo perdere cosa succede che quella persona voi gli avete dato tutta una serie di informazioni e inizia ad andare a casa e dice fammi un po vedere allora studi di registrazione torino miglior studio di registrazione questo lo fatti tutti lo facciamo tutti lo faccio anch'io quindi cosa fai vai a casa e inizia a guardare online chi offre quel servizio o quel prodotto questo succede sia con i prodotti che con i servizi voi trovate un vostro competitor diretto o indiretto e quel competitor poiché presente online e magari con una fase educativa importante con una fase educativa di una certa qualità quel cliente che voi avete iniziato ad educare se lo piglia ok un vostro competitor motivo per cui facciamo un altro esempio concreto su music business talia noi godiamo come ricci australiani quando oddio sto per dire i nostri competitor non so neanche più chi sono ma quando quei pochi che c'erano un tempo facevano ads e giù di ads su come promuovere la musica come fare migliaia di visualizzazioni eccetera e noi dicevamo sì bello bello perché perché quali erano tutti i soldi che arrivavano a noi indirettamente perché più loro promuovevano più loro cercavano di educare un target più noi ci rendevamo visibili col dire ma sei proprio sicuro che promuovere i tuoi brani su spotify in questo momento sia la soluzione adatta non è che forse ti mancano dei pezzettini oppure ma sei sicuro che se il tuo studio di registrazione non funziona forse non sono gli annunci su instagram ok la soluzione ma magari è provare ad educare il target e inserirlo all'interno di un sistema di lead generation strutturato che ti consenta di avere controllo su quante persone arrivano da te su come le converti su come le fidelizzi su come le nutre su cosa gli offre su quanti benefici hanno a scegliere no diamo giù di ads e facciamo queste cose quindi per noi la nostra vera arma è stata quella di prendere tutti gli sforzi dal punto di vista promozionale di quelli che possiamo dire sono i nostri competitor perché purtroppo noi non ne abbiamo di competitor e questo lo dico purtroppo perché sarebbe bello avere dei competitor perché vuol dire che qualcuno inizierebbe a accendere il cervello e si creerebbe una sorta di attenzione su queste tematiche portandola avanti in modo serio ma purtroppo non succede perché c'è il corso di music business cioè cose assolutamente inutili per l'indipendenza di chi vuole lavorare nella musica quindi ragazzi cosa dirvi voi dovete costruire il vostro magnete qual è il tuo magnete se non hai un magnete ok sicuramente è un processo che su cui possiamo aiutarti abbiamo aiutato tantissime persone ormai direi che non dobbiamo neanche stare qui ok a discuterne andate su se non ci credete troffiamo le persone troffiamo i ragazzini andate sul nostro sito leggete volete parlare con i nostri clienti vediamo contatti dei nostri clienti ma sistemate con noi o senza di noi questa situazione io ve lo chiedo per favore cercate di avere un contatto diretto di costruire un contatto diretto con la vostra utenza perché questo è l'unico modo con cui voi potete prosperare in questo nuovo mercato vince chi ha il contatto diretto con l'utenza chiunque non abbia contatto diretto con l'utenza non è indipendente ma schiavo totalmente dipendente da modelli e da sistemi di cui non ha il minimo controllo spero che questo vi sia piaciuto mi scuserete per i toni ma voi immaginatevi la rottura le stesse cose stesse cose stesse grazie a tutti arrivederci